Con un investimento molto consistente, si parla di mezzo milione di euro, a Quarrata si realizzerà una nuova rotonda. Una rotonda all'intersezione tra Via Laga e Via Firenze che rappresenta uno snodo molto problematico per l'intera viabilità sul territorio quadratino. Sicuramente lo snodo fra Via Firenze e Via Larga dopo aver aperto la nuova viabilità, la via Falcone-Borsellino che conduce al casello autostradale di Prato Ovest, è notevolmente incrementato il traffico in questa parte della città. Quindi abbiamo la necessità di migliorare, di garantire la sicurezza ai fruitori di questa viabilità. Quindi nonostante che si tratti di una strada provinciale, Via Firenze abbiamo deciso di investire con risorse proprie dell'amministrazione comunale per mettere in sicurezza questo incroscio, questo snodo viario per un importo importante perché ci andiamo a investire 560 mila euro ma è proprio perché vogliamo garantire sicurezza alle tante persone che entrano nella città di Quarrata uscendo dal casello autostradale e quindi prendono la strada diretta e quindi ad oggi l'unico snodo è questo qui. E quindi noi vogliamo proprio garantire più sicurezza e per questo motivo stiamo realizzando questo importante snodo viario. Voi avete approvato il progetto in giunta, adesso che passaggi ci sono? Noi abbiamo già approvato il progetto in giunta, il progetto definitivo. Attualmente in questo periodo vi è in corso la gara per individuare la ditta esecutrice dell'opera e stiamo lavorando per l'esproprio perché la rotonda allargerà un attimino il suo raggio d'azione rispetto all'incrocio di oggi e quindi abbiamo bisogno di espropriare qualche piccola porzione di terreno. Quindi sono in corso gli esproprio e è in corso la gara. Se tutto va bene entro aprile dovrebbero iniziare i lavori che si dovrebbero concludere entro la fine dell'estate. Grazie a tutti.